Buongiorno, in occasione della festività della Madonna delle Grazie il 2 luglio, siamo a Carraffa con il signor Furfari, che tra l'altro è un po' nostro paesano, attraverso Rocco Furfari che è sposato con Nuccia. Come sta signor Furfari? Bene, bene. Allora, ci puoi spiegare la storia di questa Madonna delle Grazie, questa vostra devozione? Diciamo la storia vera, vera, propria, non è vera, che sono nativo di qua io, sono nativo di Reggio Carabin, non lo so. Però vi siete trasferiti qua con la famiglia? Sì, sì. Ho capito. E la patrona, insomma, di Carraffa? La patrona è la Madonna degli Angeli. Ah, la Madonna degli Angeli. Questa è il santuario della Madonna delle Grazie. Delle Madonna delle Grazie. Stasera ci sarà una processione? Sì, una bella processione. Ieri sera abbiamo fatto la processione fino a Casignano. Sì. Stasera si parte di qua. Sì, da questa chiesa. Sì, arriva fino a Sant'Agata. Addirittura. Sì. E poi la portava in chiesa della Madonna degli Angeli. Benissimo, lei è molto devota a questa Madonna? Sì, io lo so. Va bene, lei è stato molto gentile, vuole salutare suo figlio che ci vede molto attraverso il sito? Saluto anche il sogno che è lì. Ah, va bene, allora. Sto qua lì. Allora, pure la nipotina immagino. A tutti, a tutti. Va bene. Grazie, molto gentile. E arrivederci a lei. Grazie. 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 Grazie.